14 febbraio del 2004, il giorno di San Valentino, proviamo un po' tutti un grande dolore d'amore, il nostro amore per un grande campione, Marco Pantani. Finisce la sua corsa nel modo più triste, da solo, abbandonato in una camera in un albergo di Rimini, sopraffatto da un overdose di stupefacenti in condizioni e in circostanze che ancora molti ritengono misteriose. Marco aveva vinto tutto, aveva vinto il Tour de France e il Giro d'Italia nel 1998, soltanto sei anni prima. L'anno successivo, nel 99, a Madonna dei Campiglio, un controllo lo sorprende e le analisi rivelano nel suo sangue una dose di ematocrito più alta in eccesso rispetto al dovuto. Da lì l'uomo delle salite comincia la sua più terribile discesa che lo porta appunto in quella camera. diceva di sé, vado forte in salita, forse è perché voglio in qualche modo anticipare la mia agonia.